Le telecamere di Battipaglia 1929 si soffermano oggi sui sottopassi che collegano l'ospedale di Battipaglia a Belvedere. Lo spettacolo che mostriamo con le nostre immagini è davvero raccapricciante. Erba dappertutto, sporco a non finire, insomma una situazione di degrado ambientale notevolissima. Che cosa dire? Noi vi lasciamo alle immagini che sono più eloquenti delle nostre parole, che a volte sono superfule. Italia Sov, Italia Brod, la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Ma l'Italia non ci sta. Ma l'Italia non ci sta. La pizza in compagnia, una pizza in compagnia, una pizza in compagnia, una pizza in compagnia.